ciao ragazzi oggi vi farò vedere la mia playstation non so come mai ma guardate vedete che ce l'ho ovviamente qua vi sono messo questa immagine se mi dite come ho fatto per questo motivo allora sono andato qua no no io ero andato su un gruppo dove ah qua dove questo qua sono sempre io dove mi sono mandato degli screen che mi potevo mandare ovviamente di saltpark così allora praticamente faccio lo screen vedete con il mio bellissimo gestic rosso faccio lo screen ecco lo screen è stato fatto ora io ve lo posso andare a cambiare andando su impostazioni e fare tutto ovviamente come giochio minecraft fortnite rainbow gta shark factory e sonic force sonic monia trove call of duty vov2 e questo qua non so come si dice rocket league che non ci gioco da un botto di tempo ah ovviamente se vedete questo è perché avevo fatto lo screen e lo sono tenuto così ovviamente non posso fare gameplay perché giocare con una mano non è bello comunque bello volevo solo far vedere perché allora io ho la tv in camera mia e non so come piazzare qualcosa per fare i video io non so come piazzare aspettate ho avuto sto per un attimo il video allora perché non so come mettere il telefono per esempio così non so proprio come metterlo per registrare un video perché vedete qua avevo una sedia che non tanto dai mi ci metto qua mi metto qua è tutto quello che una volta ho provato a metterci di tutto per fare restare il cellulare però la visione veniva così e non era tanto bello quindi sto cercando un modo per fare i video e quindi aspettate ovviamente io diciamo che come robot 85 vabbè io ho con tutto il video e ci vediamo